Quali sono gli effetti cardiovascolari dell'inotitib nel paziente giovane e quali esami bisogna fare per monitorare? Allora, gli effetti cardiovascolari sono più frequenti sui pazienti di età più avanzata perché questi aumentano con l'età, quindi non necessariamente dovuti alla malattia o al farmaco. Sicuramente il farmaco ha un rischio cardiovascolare leggermente aumentato, i problemi cardiaci sono legati principalmente da aritmie, quindi alterazioni del ritmo che possono essere facilitate, mentre i problemi vascolari sono legati ad ostruzioni di arterie principalmente periferiche, quindi arti inferiori, braccia, giugolare, eccetera. Ovviamente questi non sono influenzati soltanto dal farmaco, ma come abbiamo detto anche dall'età e dalle abitudini di vita. È fondamentale che il paziente abbia delle buone abitudini di vita, che non ci siano associati i fattori di rischio cardiovascolari, quindi principalmente il diabete, l'ipertensione, il fumo di sigaretta, l'obesità, quindi la percentuale è fino al 20%, aumenta con gli anni di assunzione, però diciamo che ha delle fasce di incidenza che sono dipendenti dall'età e dalle abitudini di vita, ecco perché le abitudini di vita sono fondamentali. Gli esami che vengono fatti per monitorizzare eventuali alterazioni di questi meccanismi sono principalmente il Doppler, che viene fatto, noi facciamo Doppler dei vasi carotidei e degli arti inferiori, e la valutazione di analisi generali per valutare appunto il diabete, un diabete latente o anche alterazioni dei prodotti dell'infiammazione e per quanto riguarda i disturbi cardiologici, noi periodicamente facciamo un ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma un po' meno, lo ripetiamo più nei primi anni di trattamento. Non so se Massimo vuole aggiungere. Ma io trovo importante soprattutto parlare all'inizio con i pazienti, quando iniziamo questo tipo di terapia, e dirgli immediatamente che siccome ci possono essere degli effetti metabolici, se controllano da subito la dieta non hanno questo grosso problema, soprattutto controllare nel corso, e questo lo facciamo noi, loro non si devono preoccupare, ma la glicemia, il colesterolo, eccetera, laddove sia necessario, se non rientra con la dieta, sicuramente fare dei farmaci che possano abbassare i livelli, soprattutto il colesterolo, per evitare che siano poi a rischio di avere degli effetti collaterali a lungo termine. Però poi tutto quello che hai detto è assolutamente condivisibile, lo sappiamo, ormai siamo una sorta di rete, lo facciamo tutti da sempre. Grazie. Grazie.